Confermata! Uccideteli e prendete la cattiglia! Ora siamo in passaggio! Siamo in testa! Iattrina presa, confermata! UAV alleato online! UAV alleato in zona! Puta! Sono ferito! Confermata! 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 Iattrina presa, confermata! Confermata! C'è una magrappolo ostile! Confermata Ora siamo in vantaggio Infattivo aereo vicino a voi Con un nemico in zona Siamo nella missione, dobbiamo farlo L'UAV di disturbo è attivo Confermata UAV alleato online Confermata 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 I nemici hanno lanciato l'interno Confermata UAV alleato in zona Biattrina Alleato attivo UAV alleato in zona Confermata Confermata Danzara ostile in funzione Confermata 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 Confermata